Ecco Bethlehem. Siamo arrivati. Troveremo un posto. Te lo prometto. Dio sia con te. Per favore, ci sarebbe un posto dove stare per me e per mia moglie. Mi dispiace, ma qui non è possibile. Per favore, per favore. C'è una locanda. Un posto dove stare. Mia moglie ha le doglie. C'è un posto per noi. Aprite, per favore. Passale. Aiuto. Ti prego, signore. Signore, non avrai cura di lui. C'è qualcuno. Aiutateci. Giuseppe! Giuseppe! Maria! Maria! Aiuto! Ti sopplico. Non voglio entrare in casa tua. Basta un posto qualunque. Non posso darti altro. Non posso darti altro. Melchiorre. Gaspare. Una stella apparirà nella notte. Di. Eh, non posso dir. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.